E come previsto e preannunciato anche nel corso di questa nostra puntata, vogliamo soffermarci in modo particolare sui temi legati all'immigrazione. Lo facciamo attraverso un appuntamento che ha caratterizzato la Chiesa proprio nella giornata di ieri. La Chiesa ha celebrato la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. È sempre stata questa anche in passato un'occasione per dimostrare le preoccupazioni per le diverse categorie di persone vulnerabili in movimento, per pregare per loro mentre affrontano molte sfide e per aumentare la consapevolezza sulle opportunità offerte dalla migrazione. Ogni anno questa giornata viene celebrata, l'ultima domenica di settembre, quest'anno si è celebrata proprio ieri. Il titolo scelto da Papa Francesco per il suo messaggio annuale è liberi di scegliere se migrare o restare. Poi entreremo nel merito anche del messaggio stesso di Papa Francesco. Ma vogliamo approfondire questo tema attraverso una delle tante iniziative che si sono svolte su questo argomento, in particolare tramite la grande famiglia degli scalabriniani dell'Ufficio Migrantes della Diocesi di Piacenza a Bobbio. Lo facciamo attraverso una introduzione prima di salutare il nostro ospite che è già in collegamento da parte di padre Mario Toffari che è il missionario scalabriniano responsabile proprio dell'Ufficio Migrantes della Diocesi di Piacenza a Bobbio. Ascoltiamolo. Liberi di scegliere se partire o restare era una frase di scalabrini. Scalabrini fece un'analisi per il governo italiano in cui metteva in evidenza come la costruzione delle persone ad emigrare gli dicevano i suoi piacentini o emigrare o rubare in una costruzione da situazioni economiche ma anche l'inganno degli arruolatori che gli definiva mercanti di canna umana. Ebbene, Fiscalabrini disse appunto dobbiamo arrivare a un'emigrazione che può essere molto buona libera molto cattiva se obbligata. Quella frase il Papa l'ha presa, l'ha messa in evidenza, l'ha articolata e in questa centonovesima giornata del migrante ed è rifugiato l'ha messa come tema di riflessione. Questa dunque l'introduzione che ci regala quest'oggi per approfondire il tema padre Mario Toffari. Ma presente a questa iniziativa e presente anche sul nostro canale quando ci occupiamo di questi temi così importanti Domenico Lamarca. Domenico Lamarca, cantautore impegnato nel sociale, ha tanto da raccontarci su questi temi attraverso sì il linguaggio della musica ma anche e soprattutto attraverso il linguaggio fattivo concreto dell'impegno nel sociale appunto. Domenico buongiorno e bentrovato. Buongiorno a tutti e un saluto sono ancora a Piacenza dove ho trascorso tre giorni importanti e belli. Io vi ringrazio per l'invito e sono sempre legato alla vostra televisione anche perché è una voce sul nostro territorio non solo provinciale ma io direi internazionale quindi sempre una bella opportunità e una bella occasione di rivederci. Ecco è per noi motivo d'orgoglio il fatto che sei stato presente a questa iniziativa come cantautore pugliese tra gli ospiti appunto della 109esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato a Piacenza per presentare il tuo ultimo lavoro discografico ma raccontaci come si sono svolti come hai vissuto questi tre giorni a Piacenza. Allora intanto per me tornare a Piacenza era un po' tornare indietro nella mia storia perché io ho studiato da scalabriniano e tre anni importanti della mia vita quelli del liceo sono stati fatti proprio qui a Piacenza quindi per me è stato ritrovare anche me stesso ritrovare degli spazi riprendere anche l'energia perché comunque essere qui a Piacenza nella casa madre degli scalabriniani di San Giovanni Battista Scalabrini per chi si occupa di immigrazione è una bella occasione di energizzante ecco. Mi sono ritrovato in questa giornata perché la CEI ha designato, ha chiesto a Piacenza, ha individuato in Piacenza il luogo dove doveva essere celebrata diciamo così anche una messa che poi è stata trasmessa anche su Rai 1. Ho fatto parte con il mio concerto di una serie di eventi qualche giorno fa mercoledì scorso c'è stato un importante convegno poi c'è stata una veglia la Santa Messa in cattedrale e poi un concerto legato anche a un momento anche a un momento anche culturale perché qui in casa scalabrini c'è un museo molto bello interessante sull'emigrazione italiana e su Giovanni Battista Scalabrini quindi è stato inserito in questa in questo programma e niente sono stato onorato di di essere di essere chiamato e ieri di tenere questo concerto che racconta di storie storie che poi sono fanno parte della storia di ognuno di noi perché ogni uomo se volete un migrante. Certo nel proprio nel proprio percorso di vita ecco possiamo ritrovarci tutti nelle situazioni di essere costretti ecco a lasciare le proprie certezze per affrontare un futuro che purtroppo per queste persone nello specifico a volte sempre più spesso dovremmo dire porta rischi anche inimmaginabili fino alla morte. Tu Domenico sei un cantautore ti abbiamo definito così ma la tua professionalità si esprime attraverso un importante impegno nel sociale e nel lavoro. Tu sei un assistente sociale che da 30 anni ecco si occupa di migrazione in un territorio particolare fortemente segnato da questo tema. Parliamo di Foggia della Capitanata e il tuo ultimo lavoro discografico Oro Rosso ecco ci riporta anche simbolicamente a questo. Ecco ci racconti un po' i temi trattati in questo tuo ultimo lavoro discografico. Sì la musica è legata alla mia professione. Domenico abbiamo probabilmente qualche collegamento sui dati su internet quindi non riusciamo più a sentirti. Allora lo richiamiamo nel frattempo la regia ci aiuta in questo e vi do allora qualche ulteriore indicazione riguardo quelle che sono le attività e il lavoro che Domenico ha svolto fin qui. Ecco lo rivedo comunque in collegamento. Mi senti adesso Domenico abbiamo forse qualche per lavoro ascolto storie e incontro le storie quotidianamente storie di precarietà storie di sofferenza storie dove la miseria ha tolto anche la dignità alle persone. Oro Rosso questo album nasce dal lavoro che faccio e racconto storie gran parte di migrazioni ma anche storie dell'uomo perché guardate accanto al lavoro di servizio che noi stiamo svolgendo occorre fare anche un lavoro culturale. In questo momento storico ne abbiamo bisogno e anche lo stesso tema che il Papa ha voluto dare alla giornata mondiale del migrante e del rifugiato vuole sancire il diritto all'immigrazione il diritto sacrosanto all'immigrazione perché chi scappa dalla guerra, chi scappa dalla miseria lo deve fare, lo deve poter fare, deve poter scegliere di andare o di rimanere e quando sceglie di andare ognuno di noi come umani abbiamo il dovere anche di accogliere, accogliere e creare dei percorsi di inclusione. Questo è il mio lavoro. In Capitanata sì abbiamo tante ferite però devo dirvi che abbiamo anche tante belle iniziative. In ultimo una bella iniziativa che stiamo portando avanti con la mia organizzazione, con Arania, con Emmaus, più Supreme Capitanate un progetto finanziato dalla Regione Puglia che ringrazio perché ha l'obiettivo di togliere tante persone da quei ghetti, ridare loro dignità e ridare loro la possibilità di crearsi un percorso di inclusione e diventare in qualche modo anche cittadini di questo territorio. Domenico io approfitto della tua disponibilità per trattenerti ancora per qualche minuto. Facciamo una breve pausa e poi entriamo proprio nel merito anche del tuo stesso album, quali sono appunto i titoli, i temi e avremo la possibilità di sottolineare ancora alcuni degli aspetti che ci hai anticipato. A dopo. Ed eccoci ancora insieme. Siamo sempre in collegamento con Domenico Lamarca. Cantastorie dei migranti e degli esclusi. Qualche piccola notazione biografica circa quella che è l'attività appunto svolta da Domenico come cantautore. Nel 2020 è stato premiato al Cantagiro con il premio Sergio Bardotti per il miglior testo, per il brano I bambini nascosti che racconta di quei bambini invisibili, figli dell'immigrazione italiana costretti a vivere nascosti in Svizzera. Si fa notare qualche anno fa per la canzone di Cartoni e Lamiera con la denuncia dello sfruttamento dei lavoratori immigrati nelle campagne del Foggiano per la raccolta del pomodoro. E come vi dicevamo questo titolo del suo ultimo lavoro ci riporta proprio a questo. Oro rosso, l'oro della Capitanata che dietro appunto alla parvenza di una ricchezza del territorio nasconde tante storie anche di sfruttamento e di schiavitù. E' questo un po' il tema che contraddistingue anche questo tuo ultimo lavoro, è vero Domenico? Sì, rappresenta questo album un passo anche in avanti, non solo artisticamente ma anche di presa di coscienza che spesso alcune problematiche sono solamente la punta di un iceberg, il caporalato, il caporale è solamente se volete la punta di un iceberg di un problema più grosso. Oro rosso che è il brano diciamo così portante dell'album è una presa di coscienza di noi consumatori che dobbiamo iniziare a porci delle domande, dobbiamo chiederci se dietro il costo di un prodotto dobbiamo chiederci qual è il prezzo umano, qual è il prezzo del sudore e allora ci accorgeremo che forse costa più una bottiglia d'acqua che per crearla non serve un grande lavoro che è una passata di pomodoro e chi viene a pagare per tutto questo? I lavoratori, i braccianti, ma la colpa non è dell'imprenditore, non sempre la colpa sua, ma spesso è della grande distribuzione che fissa dei prezzi del prodotto agricolo e che costringe anche in qualche modo alcuni datori di lavoro, alcuni proprietari terrieri a fissare, a usufruire di caporali, però il tema è molto complesso e nell'esperienza abbiamo anche avuto esperienze positive di datori di lavoro, di proprietari che riescono a pagare il giusto, ma pagando il giusto vuol dire che il prezzo anche della passata deve costare un po' di più. L'album non si sofferma solamente sul tema dell'immigrazione, parte da un tema che è quello dei pregiudizi, il tema dei pregiudizi dicendo che mentre parliamo abbiamo 77 muri che dividono dei confini, che separano per allontanare famiglie, ma i muri più grandi ce li abbiamo dentro di noi fatti dal pregiudizio, dalla paura dell'altro. E come vincere questa paura? Vincere questa paura se riusciamo a scendere dal nostro castello, incontrare l'altro e solamente l'incontro può aiutarci a fare intercultura, a conoscere meglio l'altro. E poi altri temi che sono racchiusi in questo album riguardano soprattutto la povertà. Sto facendo un'esperienza bellissima a Foggia è molto forte con il pronto intervento sociale per conto del Comune di Foggia, dove insieme a tante organizzazioni, tra cui anche i Fratelli della Stazione, diamo accoglienza a tanti senza fissa dimora. In circa tre anni ne abbiamo accolto nel nostro dormitorio ben 400, è un grosso numero. E questi 400 non sono solamente migranti, sono tanti italiani che si portano anche ferite importanti addosso. E le ferite purtroppo le difficoltà non hanno colore e bandiere. E come ulteriore, come dire, tappa di questo tuo impegno, ricordiamo tra l'altro anche una tua pagina su YouTube dove è possibile trovare un po' tutto ciò che contraddistingue questo tuo lavoro dal punto di vista artistico e non solo. Ci sono ulteriori tappe anche nel nostro territorio nei prossimi giorni? Sì, il 28 giovedì a Cerignola sarò ospite del Centro Servizi Contrasto alla Povertà e parteciperò a questa bellissima iniziativa, il Festival dell'Inclusione, liberi di scegliere se emigrare o restare. Quindi sarò con la band per il concerto e quindi vi aspetto alle ore 20 per lo spettacolo musicale Oro Rosso via Gran Sasso a Cerignola. E presto con noi per sottolineare ancora questi aspetti che riteniamo importantissimi e sui quali dovremmo sempre più, come dire, porre la nostra attenzione. Grazie Domenico, buon lavoro. Grazie a voi e buon lavoro e buona giornata a tutti.